accettiamo e declinano mentre aspetto che trovi un game volevo avvisarvi che ho iniziato più o meno a fare stream più o meno frequentemente non ancora con una schedule fissa comunque credo di fare qualche video a parte solo per quello era solo per avvisarvi attenzione sono second pick scriviamo top or jungle top, jungle o mid basta tutte e tre tutto tranne la bot di sin ragazzi questo significa che se è veramente un platino il game è vinto se invece è uno smurf è finita vediamo sto Walter Kowalski cosa vuole prendere Shara è bannato ovviamente l'ha bannato lui where do you go bro decide gli lascio la scelta adc è a posto non so dove andare Ari Zed se prendo lo faccio lo faccio lo faccio non so giocare Zed allora vediamo come è messa la gente con gli score io sono messo male con Zed e me l'immaginavo quelli sin è messo male con gli sin ci godo mamma mia quel Darius vabbè ha un rateo decente ma è Darius quindi c'è poco da meravigliarsi Ashi e la nostra Tristana anche hanno dei bei ratei ratei rateo boh diciamo che giocano tutti bene tranne me l'immagin apposta allora sono contro Annie giusto la build penso sia giusta così spero sia giusta così so che si deve maxare Q e W però fare la W livello 2 perché sennò rischio di morirci la primo gank ce la fanno early allora spostiamo la gente di carry support no va bene mid top e poi già post i tanti di Zed sono bellissimi si possono spammare a casaccia il ball la risata il control 1 ma il 1 non fa quasi niente il control 2 fa la beatbox K che è FK Udir ho detto ehi e quello ho scritto ehi non per dire ma perché venite in ranked per poi stare FK ma perché vi può venire il cagotto fulminante quello che volete però cercate di venire in tempo sapendo che sei anche il jungler ma di vero è vero che non sono rigid what the fuck perché pensavo di esserla aia pensa a formare ma cosa gli ho fatto di male oh ma preferisce perdere i minion perché li perdo anch'io però dopo un po' capisco cosa vuole fare sto attento semplicemente tipo adesso e prevedo una lane molto brutta del tipo farmo di Q ti ho presa eh lì non ci vado no no che palle vai minion colpitelo colpitelo ok ora push la tor però fa molto male questa cosa non mi piace guarda quando finisce il mana non lo so devo ancora vederla fare una Q sui minion guarda mi ha distrutto adesso è worth per lei ha gustato prima kill no good job qui mi senni lo pingo ok non so formare con Zed ho capito oh ma non è possibile devo concentrare ogni auto attack ci sta io ancora flash knight quindi appena faccio il 6 se lo faccio più o meno in tempo ingaggio con cattiveria e la uccido forse oppure muoio perchè viene un lissin dai che palle tose low c'è una O di meno io so che da qualche parte c'è ancora questo lissin ho tantissima voglia di andarci però ok no ha lo stun quindi che palle no 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 promolo con la Q no ti prego Udyr non ha flash questa please mate he has no flash preferisce andare top a rischiare di morire in 2 contro quel io ora sono finito completamente sto giocando male è arrivato è arrivato nai di asci dal nulla I'm fire bitch ok ah no ma se lo dici tu hai ragione ok l'ho last benissimo ho la sua farm lei che mi ha killato tutto il tempo ha la mia farm ne è di meno ne è di meno adesso non capisco non capisco ora se riesco a levarle un bel po' di vita non così se riesco a levarle la vita in tempo prima che le spunti di nuovo la ulti forse di ulti la uccido dopo eh no però questa cosa non è normale anche i miei skill shot non sono normali però ah no ovviamente io continuo a morire se questa cosa non mi ganka se questo udir oh eh late devo scriverglielo ok late no perché poteva dire oh my god stay i asked for ganks but it seems you prefer watching she's just flash ora dovrei prendermi l'ex drinker però facendola non faccio altro che rallentare la mia build e i miei danni forse anche e la faccio però adesso ovviamente tardi se un Annie comincia a pocarmi a livello 1 e lui non fa niente per aiutarmi io sono stupido perché non so giocare Zed e lui è ancora più stupido perché non mi aiuta oppure inizio a romare tanto che ho il flash non l'ho mai usato potrei fare delle cose molto belle tipo un dive mamma Darius mamma mia ho fatto anche il disrespect you can see me la uso perché ho paura di quella Annie che mi sa anche SS Annie se si sfida ancora Annie è finita già fa danno tanto puoi prendere altri kill è finita davvero cosa ha ecco aia avrà capito che fa danno ma non è che moltissimi addirittura semplicemente Annie guardala si fa anche ittare dei minion datemi una ulti adesso è il minion che perdo però vedi ha 5 minion più di me e io ne perdo tanti mamma devo andarci adesso devo devo ha due stack quindi può no ok adesso non posso andarci appena usa la Q e dopo lo stack vediamo se riesco a baitarglielo devo andarci devo andarci per forza non ho fatto niente di danno non gli ho fatto neanche l'auto attack vp dive just kill me even without your passive apriamuto R semplicemente guarda la gente smette di flammare ma eh flamma ecco a posto anche se sto fidando ancora le forze words da cosa ah no andavo per il teleport e però non lo prendo neanche perché prima di tutto non ho mana secondo non lo perdo subito e darlo da una Annie è molto peggio che adesso ha mamma quelli sin quelli sin si fa è scarsissimo minion uff vediamo un Annie in faccia e non ve lo consiglio fuggi fuggi fammi farmare sto arrivando non che grazie potevi farmela prendere però vabbè dai 2-4 ho fatto capire che anche io so fare qualcosa almeno il drago lo spawno tra 4 minuti che l'hanno fatto prima farmo questa Annie è good a prendere le kill bad a farmare io ho tutti e due però forse un po' meno di lei a farmare perché se riesco a raggiungerla con 4 morti e sbagliando così perché c'era un ping senza nome però che io ho il ex drink perché grazie mille però mi sarebbe piaciuto averla volevo andare su quello la però questo non me l'aspettavo cos'era quel flash alistar cos'era quel flash pam corri 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 si è salvato sono pieno di soldi facciamo così e non sono messo malissimissimo ho più farm di Annie non si sa come ma ho più farm di Annie questi poveracci sono morti finalmente la lista è morta è scappato il dito su lei infatti non ha preso nessuno mi ha killato Darius ma che io a questa Annie non levo niente non è che ha tanti cioè le lune normali dell'arma levo di più a trash mamma se killava pistana così uff vabbè che vuole andare 1v4 pazzo pazzo perché eh scarpe mi devo comprare le Mercury però non ho soldi e non voglio vendere le pozioni che potrebbero servirmi contro Darius oh 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 ti prego vai ecco facci è la ulti ha fatto tutto quel danno e abbiamo ancora l'ex drinker da proccare perché mondo crudel perché perché quanto costa 875 824 hanno fatto la torre i minion vendo ste pozze no mi compro questo mi serve molto il Magic Resist però ne ho già tanta effettivamente ne ho già non sto capendo molto i loro obiettivi però so che posso killare non ho messo il Knight all'esterno non c'è sicuramente il coso infatti non mi ricordo se Ash ha aiutato mi pensavo di killarla di ulti ora scrivono report Zed for feeding Annie stop going I'm bored mamma questa Annie quanto la ucciderei di botte thank you for feeding mid lol lol no what the fuck c'è anche usi le 3-8 però fermano me così no per quale motivo muore muore una parola I go only in the cause we lose and I have fun so you are trolling quindi stai trollando i nemici hanno appena flashato tutti quanti cenni quella passiva anche volendo non avrei potuto fare molto bam yeah GG for feeding Darius niente ragazzi ho perso un altro game ancora questo me lo meritavo però mi sa che resto del team non ha fatto molto però io me lo meritavo no no ma 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 tutto com'è effettivamente ovviamente se io muoio 11 volte a 24 minuti gli altri ovviamente sono quelli bravi perché sono 3-5 3-9 2-3 2-3 è totalmente colpa mia so persa nessuno poteva venire ad aiutarmi mentre io chiedevo aiuto sapendo che non aveva neanche flash era solo c'è poco da dire un'altra 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Rip. E rip i mail LP anche. E niente mi dispiace caricare il video dove perdo così tanto però è la road to diamond. What the Jeff 16-2 wow I did it. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.